Questi franchi tiratori, il termine viene dalla Prima Repubblica, speravano di non sentirlo più, ma esista ancora a Roma. Secondo me alcuni dei stessi franchi tiratori di un anno fa rappresentano nello stesso parte del Partito. La minaccia più grande per le riforme di Matteo Renzi per il vostro Paese è di riscoppare questi che non hanno capito che la guerra è finita perché rischiano di sembrare i giapponesi nella Germania.